Vice sindaco Fossati ha avuto la sfortuna, il caso di dover firmare come primo atto proprio da vice sindaco di sostituzione di Scaiola, assente in quei giorni l'ordinanza di divieto di barneazione del Prino. Ordinanza finalmente revocata, ma al Prino si può stare tranquilli? Com'è questa storia che il troppo pieno delle fogne ogni tanto blocca tutto? Al Prino si può stare assolutamente tranquilli. L'ordinanza ovviamente è stata adottata perché è a tutela della salute dei cittadini che viene prima di tutto, dispiace ovviamente per gli operatori economici, ma noi riteniamo che ovviamente è necessario tutelare anzitutto la salute dei cittadini. È un obbligo. È un obbligo di legge. È stata firmata perché non è che tecnicamente non c'è stata una rottura della condotta, è sostanzialmente una condotta che fisiologicamente in qualche modo tende nel tempo a riempirsi di sabbia, di pietre, di altri materiali, quindi riducendo la luce disponibile per lo scarico delle fogne nello specifico. Delle acque in generale, riducendo la luce quando c'è un afflusso importante di acque, c'è una fuoriuscita, c'è un cosiddetto troppo pieno e quindi dal tombino fuoriesce il liquame che va a mare, inquinando l'acqua e quindi portando la non vaneabilità. Abbiamo dovuto firmare questa ordinanza, abbiamo chiesto immediatamente ad Amat, che è tenuta la manutenzione delle reti, di intervenire. Sono intervenuti prontamente, in verità in pochissimo hanno pulito parte della condotta interessata, era andata anche Arpal a fare il prelievo per verificare la balneabilità, purtroppo Arpal quando è andata a fare sopra il luogo ha visto che c'erano degli ulteriori trafilamenti d'acqua e quindi in via cautelare è stata mantenuta la non balneabilità. Non è stato tempo perso, nel senso che visto che l'area non era balneabile abbiamo chiesto a Amat di intervenire in modo più importante sulla pulizia della condotta che è stata fatta e quindi quando poi è tornata a Arpal, ha fatto i controlli, sono passate le famose 48 ore dal prelievo, è stato verificato che non c'era più un inquinamento, è stata tolta la non balneabilità e riteniamo con ragionevole certezza che non si dovrebbe più verificare il problema, quantomeno in questa stagione, proprio perché Amat ha approfittato tra virgolette della situazione per fare una pulizia importante della condotta e quindi questo fenomeno non dovrebbe più verificarsi, quindi vorrei rassicurare i cittadini e gli operatori economici che contiamo almeno per quest'estate che non ci saranno altri problemi di questo tipo e quindi la stagione potrà andare avanti senza ulteriori intoppi.